Alla metà del 1500 un uomo sovvertì le regole dell'arte, Vasari, ancora se ne parla, anzi ora si ricorda, la nazione di oggi lo riporta, ma dopo il Vasari ci fu il buio fino al Tocci. E allora Augusto Tocci, non è che noi a Ponte Buriano ci abbiamo mandato il chiuschino di Saione, noi abbiamo mandato Augusto Verando Tocci, che sembrano tre ma è uno solo, ma è uno dei più conosciuti intenditori del mondo, a questa manifestazione a scopo benefico che si è svolta domenica a Ponte Buriano con il tartufo, cani da tartufo, annessi e connessi. Ma sentiamo magicamente il maestro, a lei la linea caro Augusto. Caro Moroni, te che sei il presidente dei tartufai e che quindi organizzate questa cosa qui a Ponte Buriano, io ti devo dare così una informazione, quel vagabondo di Leonardo Franceschi quando c'è da prendere le solate cosa fa? Ma prende e invia Augusto Tocci a Ponte Buriano. Ma bando le chiacchiere, presidente, ma questi tartufai sono tanti ma oggi sono riuniti qui per una missione speciale. Oggi è una giornata particolare perché noi siamo stati sollecitati a organizzare questo evento insieme alla LILTE che si occupa di ricerca e cura dei tumori. Abbiamo subito capito l'importanza della cosa e oggi siamo qua non per vincere i premi, per dividerci il bottino, ma siamo qua per fare beneficenza, per aiutare il prossimo e per fare solidarietà. È una cosa importantissima alla quale vedete che i tartufai hanno risposto alla grande. Allora Leonardo, vedi anche i tartufai, te d'altra parte sei un cacciatore, quindi lo dovresti anche capire, sono delle persone sensibili, sensibili nei confronti dei cani che oggi li hanno portati qui a gareggiare, sensibili nei confronti di questo prodotto che se me lo permetti è molto più così onorevole della carne di cinghiale perché io sai, io sono anch'io un tartufaio, però sono anche sensibili alle cose della vita e quindi questa missione odierna è molto importante. Ma sono tanti questi cani, sono tanti questi tartufai e da dove vengono prevalentemente? Allora al momento abbiamo raggiunto, superato i 60 iscritti, quindi 60 cani. I concorrenti vengono un po' da tutta Italia, certo non avremo concorrenti dalla Sardegna, dalla Sicilia per problemi logistici o dal Trentino, ma il centro Italia è rappresentato soprattutto la Romagna, le Marche, l'Umbria, la vicina Umbria, c'è qualcosa del Lazio e i nostri soci toscani. Toscani che poi sono praticamente i soci anche della zona di Arezzo dove esiste questa particolare associazione che si chiama Associazione dei Tartufai Aretini, no? Come? Si chiama Associazione dei Tartufai delle Valle Aretini, ATVA. Quindi allora Casentino, Valtiberina, tutte le vallate rappresentate. Andrea Santini, presidente del Comitato d'Onore della Lilt di Arezzo. E questa direi, lei ha dato alcune sigle, ma vorrei che fosse specificato perfettamente di cosa si tratta. Sostanzialmente la Lilt, la Lega Italiana per la lotta al tumore, è un ente pubblico a base associativa che copre tutte le province italiane e finanzia progetti di ricerca per la prevenzione contro il tumore e per la lotta al tumore. E la sezione di Arezzo ha avuto la fortuna di incontrare persone come il presidente Moroni e i Tartufai delle Valle Aretini che sensibili alla nostra causa ci hanno permesso di creare una giornata divertente e ricreativa, ma anche importante perché bisogna ricordare che tutti i proventi della giornata andranno in beneficenza per i finanziamenti dei progetti Lilt nella provincia di Arezzo. Leonardo allora pensa di fare la stessa cosa con i cinghialai della Valtiberina. Grazie a tutti.